MaxModel nasce nel 2008 dalla passione di un modellista, Massimo, che aveva la necessità di realizzare delle grafiche per il proprio hobby. Questo mi ha permesso di capire molto meglio la clientela. I nostri clienti sono prevalentemente i privati, hanno bisogno di qualcuno che realizzi i suoi sogni. Abbiamo cercato una tecnologia che potesse permetterci di realizzare questi oggetti. Roland l'abbiamo conosciuta nel forum. Da qui abbiamo acquistato la nostra prima periferica, abbiamo creato le decorazioni 2D. Il forum ci ha aiutato a capire che potevamo sperimentare. Ecco perché abbiamo comprato anche la seconda periferica Roland. e si tratta dell'UV, sicuramente una macchina che ci poteva dare una produzione maggiore e nella velocità. Siamo riusciti a creare un prodotto che noi chiamiamo 3D, di base. Creiamo dei piccoli accessori con una qualità estrema da poter mettere sui modelli dei nostri clienti. Quindi un grande dettaglio unito a una versatilità e a una grande affidabilità ci ha permesso di diventare leader nel settore del modellismo, soprattutto nel 3D, del piccolo formato. Rispondiamo ai clienti, li seguiamo nell'applicazione dei nostri prodotti. Ci confrontiamo su eventuali miglioramenti che possiamo apportare, sia nelle cose positive che anche nelle cose negative. Siamo Massimo e Letizia della Max Model e il segreto del nostro lavoro sono i dettagli.